L'Europa alle spalle è una storia incredibile e ricchissima dal punto di vista dell'esplosione spaziale. Abbiamo fatto delle cose straordinarie in questi decenni, ma se c'è una cosa in cui siamo stati abbastanza assenti è il campo dell'esplosione spaziale umana. L'Europa non ha mai avuto una propria navicella per lanciare umani, anche se ci sono stati dei tentativi in passato. A un certo punto negli anni 80 ci fu uno sforzo collettivo per creare una nuova navicella spaziale per lanciare anche umani nello spazio che si chiamava Hermes. Doveva essere lanciata con un razzo nuovo che è Ariane 5. Ariane 5 c'è ancora, lo vediamo. Ariane 5 fu costruito per essere human rated, cioè per poter lanciare esseri umani, ma poi tutto il programma per la navicella Hermes fu cancellato a favore semplicemente di una partecipazione insieme alle altre potenze spaziali. Il discorso era, se tanto comunque gli americani hanno lo shuttle, i russi hanno lo Soyuz, perché investire noi nel fare qualcosa che già fanno gli altri? Facciamo qualcosa di nuovo che gli altri non fanno e quindi investiamo in laboratori spaziali, nuove tecnologie di questo tipo. E poi dopo, quando dobbiamo mandare i nostri astronauti nello spazio, andiamo con loro. Le cose rispetto ad allora sono cambiate radicalmente però e l'esigenza di poter essere indipendenti nella possibilità di lanciare esseri umani nello spazio ora è più forte che mai. Specialmente con nuove tensioni internazionali, ma al di là del fatto che comunque continuiamo a collaborare, l'Europa è una delle potenze spaziali che collabora di più in assoluto, c'è anche il fatto che questo tipo di impegno, cioè costruire una navicella spaziale per umani in Europa, può diventare un catalizzatore per spingere in avanti rapidamente l'intera industria aerospaziale europea, che rischi altrimenti di rimanere molto indietro rispetto a quella americana o quella della Cina e dell'India, eccetera. Non siamo ancora particolarmente indietro, ci sappiamo ancora fare delle cose eccezionali, abbiamo talenti straordinari in Europa, ma non abbiamo ancora una visione per una cosa particolarmente ambiziosa. Quello di cui voglio parlarvi oggi è un nuovo progetto che è stato proposto al IAC, che è la Conferenza Internazionale di Astronautica, che si tiene tutti gli anni in una città diversa, quest'anno si teneva a Parigi, in cui la più grande azienda aerospaziale europea, Ariane, ha proposto una navicella spaziale per umani per i suoi futuri razzi. La nuova navicella spaziale si chiama SUSI e oggi la conosceremo meglio, vedremo se e come potrebbe davvero rivoluzionare i voli spaziali europei. Eccoci qui, dunque, questa è la nuova navicella per esseri umani proposta da Ariane Space, chiamata appunto SUSI, che ovviamente, come da tradizione, l'esplorazione spaziale è un acronimo, perché se non ci mettiamo qualche acronimo da qualche parte non stiamo bene. E in questo caso SUSI sta per Smart Upper Stage for Innovative Exploration, stadio superiore SMART per l'esplorazione spaziale innovativa. Stadio superiore sta a indicare che la navicella fa anche da ultimo stadio per i futuri razzi, quindi va in cima a sostituire quello che è l'ultimo stadio. e l'esplorazione innovativa sta a indicare che l'esplorazione cool money che facciamo ora è zero, quindi qualsiasi cosa sarebbe assolutamente innovativo, ma sta a indicare anche le ambizioni, a parte le battute, di Ariane Space per cercare di fare qualcosa di nuovo e all'altezza di quelle che sono le ambizioni anche di altre aziende come SpaceX. Per chi non conosce Ariane Space è la maggiore azienda di lanciatori al momento in Europa, ha una lunghissima tradizione alle spalle, va indietro di decenni, razzi francesi come Diamante e molti altri che sono arrivati successivamente fino a Ariane, poi Ariane 1, 2, 3, 4, che hanno fatto la storia dei lanci europei, lanciando i primi satelliti, le prime missioni europee, fino ad arrivare al 5, che è quello attuale, che sta per dare il passo al 6, che sta per debutare, è stato, ora in fase di assemblaggio, dovrebbe debutare nel 2023. Ora, Ariane 6 non è fatto come razzo per poter portare anche navicelle spaziali per umani, quindi questo è adattato ad Ariane 6, che è uno dei migliori selling point, cioè punti a favore di questo nuovo sistema sono il fatto che può essere adattato a un razzo che inizialmente non era stato pensato per questo, quindi non devi creare un razzo ad hoc per questa navicella, puoi metterlo su qualcosa che già già, quindi questo abbassa i costi. Però allo stesso tempo puoi usarlo anche su nuovi razzi, infatti è stato visto anche su razzi, quando hanno fatto vedere le illustrazioni, razzi nuovi come Ariane Next, che dovrebbe essere il 7, o comunque nuova generazione di razzi Ariane, completamente riutilizzabili. E comunque, tornando indietro, di un passo è buffo, perché Ariane 5 fu progettato per lanciare navicelle con umani, ma poi non l'aveva mai fatto, Ariane 6 è stato progettato per non lanciarli, e potrebbe farlo. Quindi, ah, l'ironia. Però, potrebbe farlo, è molto importante. Come dicevo, questa è per adesso solo una proposta. Ariane Space ha detto agli altri, possiamo farlo se vi piace, ci servono soldi. Quindi, work in progress al momento, vedremo nel futuro, nei prossimi mesi, se gli altri stati europei decideranno di investire su questo progetto, che appunto diventerà non solo di Ariane Space, a quel punto diventerà dell'Europa intera, oppure se ci sarà qualche altra iniziativa. Questo progetto nasce da una volontà europea di cercare di trovare nuovi sistemi di trasporto spaziale, grazie anche all'enorme, enorme pressione fatta da aziende come SpaceX, che ormai hanno mangiato buona parte del mercato. Quindi, stiamo cercando di andare in avanti più rapidamente e trovare nuove soluzioni, creare nuovi razzi che possono competere con quelli che sono quelli americani, o giapponesi, o indiani, o della Cina, eccetera, che stanno facendo rapidi passi in avanti. La ESA cosa ha fatto? L'anno scorso ha lanciato un'iniziativa chiamata Nests, che sta per New European Space Transport Systems, e ha dato mezzo milione di euro a varie aziende che erano state selezionate solo per immaginare qualcosa. Quindi, eccovi mezzo milione, pensate, progettate, mettete le vostre migliori menti al lavoro, progettate un possibile sistema di lanci per cargo e umani, eccetera. I risultati che sono venuti fuori sono stati presentati di recente alla IAC, che è la Conferenza Internazionale di Astronautica, che si è tenuta a Parigi quest'anno. E Susie è stato il risultato più in vista di questo processo. Può portare fino a cinque persone. È riutilizzabile, quindi torna indietro e viene rilanciata. Dovrebbe essere utilizzabile molto velocemente. Ha un grande scudo termico sul lato, delle strutture in basso per potersi orientare, e atterra propulsivamente da sola. Quindi non atterra in mare, non atterra come in shuttle su una pista, atterra direttamente su una piattaforma, nello stile di come fanno i razzi della spessa che si fa con 9. E il fatto che atterra propulsivamente gli permette anche di usare lo stesso sistema per staccarsi dal razzo come metodo di sicurezza, nel caso in cui il razzo sta per esplodere. Quindi se ci sono umani dentro e succede qualcosa, questa navicella si può staccare e portarli in salvo. Il grande scudo termico che c'è sul lato è perché in questo modo gli esseri umani, mentre ritorna la navicella dallo spazio, sono protetti dallo scudo termico, ma può anche fare una manovra simile a quella della Starship, quindi un belly flop. In pratica la navicella scende velocemente, usa questa grande superficie per rallentarsi, e poi solo all'ultimo si mette in verticale e a terra. È incredibilmente complicato da fare, la SpaceX ci ha lavorato per, se vi ricordate, più di un anno facendo esplodere vari prototipi, ma sostanzialmente la manovra è simile. Quello che speriamo di fare in questo caso, che spera l'Arian Space, è questo. All'interno il volume è di circa 40 metri cubi rispetto ai 12 metri cubi della SpaceX, quindi è molto più grande, molto più voluminosa. Dovrebbe essere molto flessibile, perché dovrebbe essere in grado di portare o cargo senza problemi, o satelliti, quindi potersi aprire lo spazio e rilasciare satelliti, oppure appunto fino a 5 persone. Può fare anche da laboratorio nello spazio, può fare anche da taxi, può anche fare da taxi intermedio, fino ad altre navicelle spaziali. Quindi magari c'è una navicella che va dalla Luna fino alla bassa orbita, e questa va solo dalla Terra fino all'orbita. Quindi con questa parti in orbita terrestre. Ti aggancia l'altra, e l'altra ti porta fino alla Luna. In questo modo l'altra non deve arrivare vicinissimo alla Terra, e quindi per andarsene combattere contro la gravità terrestre, ma può rimanere un pochino più lontano e usare meno carburante. Per il resto quali saranno i tempi e i costi? Non si sa. Ariane 6 debutta l'anno prossimo, però i tempi e i costi di Susi sono ancora da determinare. Quindi questo è soltanto uno studio di fattibilità. Quindi quello che succederà in futuro dipenderà dalla prossima ministeriale, cioè la riunione grande dei ministri di tutte le nazioni in Europa, che decideranno su che cosa investire per il futuro. La Francia ci crede molto in progetti di questo tipo, in Ariane in particolare. Ha buona ragione, il mercato aerospaziale e l'industria aerospaziale sta crescendo incredibilmente veloce. Quindi da questo punto di vista la Francia non vuole rimanere indietro, cosa che vale per tutto il resto dell'Europa. Menziono la Francia perché in questi ultimi due mesi la Francia ha deciso di investire circa 3 miliardi di dollari in più in campo spaziale, che è tantissimo nei prossimi tre anni. Quindi moltissimo che andrà in parte all'Agenzia Spaziale Europea e in parte a progetti singoli dell'Agenzia Spaziale Francese chiamata CNES, incluso magari questo sistema. Ora, se Susi diventerà o no realtà, come dicevo al momento dipende molto anche dal lato politico. Vedremo cosa succederà. Per adesso farà da terzo stadio. Ultima cosa che menziono è molto spesso vista in questi ultimi giorni paragonata alla Starship. Quindi alcuni hanno detto ah, è la risposta europea alla Starship. No, non è la risposta europea a Starship, è la risposta europea a Crew Dragon. Ok? Perché è molto più vicina, anche se più grande, a come è Crew Dragon, con la navicera con cui ora si va alla stazione spaziale rispetto a Starship. Starship è gigantesca, non c'è neanche paragone. Quindi Starship può portare fino a 1000 metri cubi. Rispetto a 40 metri cubi. E quindi stiamo parlando di tutt'altra cosa. Starship è così grande che potrebbe mandare, portare esseri umani fino alla Luna o Marte. Questa non arriverà oltre l'orbita terrestre. Magari non così bassa, magari può arrivare fino a 600, 1000 chilometri di distanza, 2000. Quindi, però, come dicevo, simile più che altro a Crew Dragon. È vero che ha in comune con la Starship l'entrata e il belly flop, ma si ferma lì le somiglianze. Ora, non è per detrimento, eh, di Susi, perché potrebbe funzionare alla grande. Anzi, io sarei felicissimo se ci fossero più sistemi in competizione tra di loro. Abbiamo bisogno non di una navicella in Europa. Abbiamo bisogno di più navicelle che possano competere tra di loro, abbassare i costi, migliorare l'innovazione e darci una garanzia che, anche se una delle navicelle non funziona, l'Europa ha comunque un'alternativa per poter andare comunque nello spazio. Questo dovrebbe essere il mindset, il modo in cui ragioniamo per il futuro. Però, ahimè, ci vuole tanto tempo per smuovere qualcosa di... di così grosso come l'intera Europa da questo punto di vista. Però, come diceva il direttore generale Hachbacher dell'Agenzia Spaziale Europea, è un momento assolutamente fondamentale dal punto di vista strategico perché non avremo molte altre opportunità per non rimanere indietro dal punto di vista delle innovazioni. Se noi non facciamo niente questo decennio, verremo spazzati via dalla competizione. Per cui, ora è il momento di investire. Altrimenti ci ritroveremo, come in Italia abbiamo visto, a innovare tantissimo nella storia iniziale dei computer se vi ricordate. Andate a vedere, per esempio, i musei italiani riguardo all'informatica o andate a visitare Ivrea e poi ci ritroveremo a essere lasciati indietro. Quindi, se vogliamo avere davvero una chance di farcela, ora è il momento della verità. Un abbraccio fortissimo, grazie di cuore e ricordatevi che, per tutte le novità, potete chiedermi sotto, scrivete i commenti, cercherò di stare dietro un po' a tutti quanti, vi striterò forte, continuate ad essere meravigliosi. Eccoci arrivati nelle Land Card. Ora, per chi di voi non sa che cos'è il disegno che ho sul petto, è di un videogioco che si chiama Kerbal Space Program, che è un simulatore di voli spaziali dove potete costruirvi da voi i vostri razzi e vengono applicate tutte le stesse leggi della fisica, del mondo reale. E quasi tutte. Qualche piccolo ritocco, però è meraviglioso e vi dà un senso pratico dell'esplorazione spaziale, di come funzionano le orbite, di come funziona un razzo, eccetera. Sotto c'è scritto Keep Calm and Crash Spacecraft perché è una delle attività principali che si fanno nel gioco. Ora, piccola aggiunta al discorso che abbiamo fatto nel video. È facile guardare tutto questo e pensare, Adrian, con le crisi che stiamo attraversando ora, con il periodo così difficile, magari, non so, non conviene buttare soldi in navicelle spaziali per umani. In realtà, potrebbe essere uno dei momenti più importanti cui farlo, proprio perché siamo in un momento di transizione così importante, perché ci permette di avere un'industria più robusta, più sana per il futuro e crea nuove opportunità di lavoro. Cioè, una crescita economica dovuta alla crescita industriale in questo campo potrebbe trainare con sé tante industrie, tanti paesi, limitrofe all'esposizione spaziale. Quindi, al momento, nei Stati Uniti è successo con la crescita della SpaceX, con tante aziende che sono cresciute intorno e quindi potrebbe succedere anche qui. Allo stesso tempo, oltre a vantaggio industriale, abbiamo dati concreti che mostrano che per ogni singolo euro investito abbiamo avuto un ritorno economico in Europa di circa 3,5 euro. Quindi, 3 euro e mezzo per ogni euro investito. Per cui, non è buttare soldi, è letteralmente creare ricchezza. e ci vuole un po' di tempo, però, come sempre, ci vuole tempo per avere i frutti di qualcosa di così grandioso. Allo stesso tempo, un altro motivo per cui potrebbe essere imperativo farlo ora è che una delle idee che abbiamo per il futuro per fornire energia è grandi costellazioni di pannelli solari nello spazio che possono mandare verso la Terra energia raccolta tramite microonde. Quindi, i pannelli solari che sono sempre esposti al Sole possono mandare poi l'energia verso casa e l'Europa ha un progetto che è stato proposto che verrà valutato ora prossimamente che si chiama Solaris per riuscire a fare proprio questo. Ora, per farlo abbiamo bisogno di tantissimi lanci spaziali. Per riuscire a fare tutti quei lanci non puoi farli con un razzo come ce l'abbiamo ora perché inquina troppo tra l'altro e perché sarebbe troppo costoso. Quindi, avere una nuova generazione di lanciatori che è più ecosostenibile e che può costare molto meno e ci permetterà di lanciare molto più spesso sarà fondamentale per costruire cose gigantesche nello spazio incluse quelle che ci salveranno le nostre chiappe dal problema del cambiamento climatico e tra l'altro ci permetteranno anche di mantenere indipendente la capacità europea di lanciare in caso di guerre o di conflitti futuri che spero come ovviamente speriamo tutti non avvengono ma se ci troviamo in quella situazione abbiamo bisogno di essere indipendenti da questo punto di vista e allo stesso tempo sarà un incentivo anche per poter creare nuovi lanciatori in giro per tutta l'Europa e nuove start-up quindi la prossima SpaceX piccolina là fuori da qualche parte potrebbe star nascendo in questo momento e questo investimento in questo campo potrebbe trainare questa industria dare la possibilità di fare innovazioni che ora neanche ci immaginiamo speriamo un abbraccio fortissimo di nuovo ci vediamo presto ciao